Ciao, nuovo video, questa volta in collaborazione con un sacco di altre ragazze, ci siamo divertite da morire nel ricreare i personaggi di Sailor Moon. Ovviamente per la mia Mercury non potevo non indossare le lenti a contatto blu e creare degli occhi ancora più grandi dei miei e ovviamente anche il diadema. Quindi per creare la palpebra un po' più grande della mia vado a mettere una matita nera abbastanza morbida leggermente sopra la piega. Poi con un pennellino sottile abbastanza morbido vado a sfumare verso l'alto cercando di mantenere intatta la linea che si fa appunto la palpebra mobile. Per creare un trucco così intenso, così acceso, non potevo non usare la base bianca. Quindi applico la matita ma questa volta la metto con un pennello piatto perché voglio appunto che i contorni siano molto precisi. inizio mettendo questo pigmento blu intensissimo e anche molto luminoso nella parte più esterna di palpebra mobile e lo applico con un pennello leggermente bagnato. Al centro della palpebra metto un celeste tendente al verde acqua. Lo metto prima con un pennello d'applicazione e poi con un pennellino più sottile vado a delineare bene i contorni. Prendo un nero opaco e lo applico con un pennello sottile a penna nella piega che ho creato con la matita. metto poi un bianco opaco nell'angolo interno. Riprendo il nero e sfumo bene con un pennello abbastanza sottile il nero verso l'esterno e verso l'alto cercando di non sporcare la palpebra mobile. Io uso un eyeliner bianco opaco ma si può usare benissimo anche una matita bianca scrivente. Io uso un eyeliner bianco opaco ma si può usare benissimo anche una matita bianca scrivente. Questo l'ho preso su madame cosmetics e quindi qui in italia senza rischio dogana. Ci creo prima una v che si apre verso l'esterno poi vado a creare una codina anche nell'angolo interno. applico un eyeliner azzurro luminosissimo lungo le ciglia inferiori. Poi vado a fare una codina sotto a quella bianca e la prolungo fino alla fine della mia striscia bianca esterna. metto il matitone anche nell'arima interna per avere gli occhi ancora più grandi. applico l'eyeliner nero lungo le ciglia superiori e vado a creare una codina abbastanza sottile verso l'esterno. metto il mascara e poi metto le ciglia finte. queste sono pazzesche, lunghissime, molto folte e intrecciate. applico le ciglia finte anche lungo le ciglia inferiori. io uso questo paio a ciuffetti e ne applico tre verso l'esterno. con il contouring adesso creo il mento a punta e il nastino sottile tipico delle sailor. metto l'esterno. metto l'esterno. metto l'esterno. metto l'esterno. metto l'esterno. infine creo i punti luce con un illuminante opaco. quindi lo vado a mettere sugli zigomi, al centro della fronte, al centro del naso e sul mento. vado poi a creare il diadema. delimito i contorni con un pennello a penna ed un ombretto nero. coloro l'interno con un acqua color giallo e lo applico con un pennello piatto da fondotinta. disegno lo spazio per la pietra e ci metto sopra un primer per gli occhi. dopodichè vado ad applicare il pigmento blu intenso che ho messo prima sugli occhi. utilizzo di nuovo l'eyeliner bianco per creare il riflesso sulla pietra. delimito i contorni con un eyeliner in penna nero e vado a creare poi anche i dettagli interni. alla fine applico questo pigmento brillantissimo e lo metto sopra tutto il diadema per dare questo effetto dorato. non mi resta che pulire i contorni con un correttore in crema, applicare un gloss rosato da bambolina e infine mettere il vestito e indossare la parrucca. non mi resta che pulire i contorni con un correttore. ho avuto modo di conoscere alcune ragazze mentre altre le conoscevo già molto bene. io le ringrazio davvero di cuore e vi invito a vedere i loro canali e i video su come loro hanno ricreato il loro personaggio. a prestissimo, un bacione! a presto! a presto! a presto! a presto! a presto!